Con Davide Sorte, il brand artist che oggi sto intervistando dopo un anno e mezzo che abbiamo fatto il percorso insieme. Sono qua al Marketest World, quindi è stato il momento ideale per poterlo incontrare di persona. Già l'anno scorso ci siamo incontrati, ma volevo fargli dire a lui i progressi che ha avuto da un anno e mezzo a questa parte, dopo il percorso con me che ha fatto. Quindi Davide, vai tu a... Beh, che dire, grazie innanzitutto per avermi invitato in questa bellissima location, ha parlato tutto quanto lui. Comunque, i progressi sono stati notevoli, perché da che abbiamo fatto tutto quanto il lavoro ormai un anno e mezzo fa, quant'era? Sì, era giugno due anni fa. No, un anno fa abbiamo finito, più o meno. Tutti gli insegnamenti che ho avuto, anche nell'approccio, nel mindset per il punto di vista lavorativo, ma in realtà anche nella vita sostanzialmente, me li sono portati per sempre, quindi ormai quelle cose lì non le faccio più. Tutte le pratiche, diciamo, negative, quelle cose che un po' ti saboti, un po' ti levano il tempo, le energie e quant'altro. Sono cose che non ho più fatto e che in realtà adesso riesco ad essere molto più costante, in focus e capire cosa devo fare e cosa non devo fare. In pratica quello che noi abbiamo fatto è un percorso di crescita sia personale sia professionale, no? Esatto. E la cosa che più ti ha colpito nel percorso e che ti ha permesso di fare quello switch, qual è stata? Ah, la cosa che più mi ha colpito è stata proprio in realtà l'esercizio. Ancora mi ricordo che hanno fatto anche oggi lo speech sul necessario, non necessario, urgente, non urgente, non importante e non urgente. Sulla matrice di Eisenhower. Esatto, perché fa chiarire proprio esattamente le cose che devi fare e quelle che invece, Mari, vuoi fare perché sono più comode ma che non hanno senso in quel momento e possono anche essere messe da parte. Quindi quello sicuramente, ma in generale anche proprio andare a, diciamo, in qualche modo capire le worst practice da evitare che tutti quanti un po' facciamo, specialmente agli inizi, e che alla fine sono tutto ciò che è facile e ti distrae ma che non porta a niente. Ok, quindi sono state importanti per la gestione del tempo e le priorità da mettere nella tua vita. Esatto. E un'altra cosa che ti voglio chiedere è, oggi se dovessi spiegare a qualcuno quello che hai fatto in una frase breve, per poter far capire agli altri anche quello che è il valore del percorso con un mentore, con un coach, con qualcuno one to one che dal vivo ti segue, come lo racconteresti, come lo promuoveresti tu? Allora, secondo me le due parole sono consapevolezza e accelerazione, perché ti rendi consapevole di ciò che tu stai facendo che non funziona e di quello che invece dovresti fare per farlo funzionare e poi premi sull'acceleratore per effettivamente andare a renderlo concreto. Quindi c'è prima una parte di consapevolezza sulla parte che facciamo insieme e poi la parte della soluzione per portare avanti quello che avete effettivamente pianificato e sul che avete lavorato. Bene, grazie Davide, grande. Grazie per questa brevissima ma... Intensa però. È intensa l'intervista perché consapevolezza e accelerazione sono due parole chiavi e con questo volevo chiudere qui veramente l'intervista perché sono le due parole chiavi che per me sono importanti nel processo di cambiamento, di trasformazione. La consapevolezza di chi siamo, non solo debolezze ma caratteristiche perché quelle debolezze sono delle caratteristiche uniche che ci permettono di essere sul mercato, non sono debolezze, non sono dei limiti ma sono delle opportunità se li prendi al volo per poter andare via da quella timidezza del cazzo che non ci permette di fare nulla poi, dal perfezionismo di minchia che ho detto due parolacce in due secondi, va bene. Speriamo che l'algoritmo non mi penalizzi, però grazie Davide per questa breve intervista che serviva dopo un anno e mezzo di percorso, per me anche per avere un feedback da un anno e mezzo, avere quella lucidità di dire... Sì, sono cose che porti per sempre alla fine, una volta che le hai assimilate sono quelle, quindi... Grazie. Grazie.